Parate dalla Regione con una delibera portata in giunta dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e approvata nel corso dell'ultima seduta, le linee di indirizzo per la riquadratura e il sezionamento dei blocchi di marmo che riguardano anche i comparti lapide di Garfagnana e d'Alta Versilia. Un documento che si aggiunge ad altri che già fanno parte del piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo nel distretto Apoversiliese, approvato nel 2016. Negli anni scorsi, 2017-2018, sempre all'interno del piano straordinario, erano state approvate delibere che definivano la procedura di sicurezza per l'uso degli esplosivi in cava, la procedura unificata per il taglio al monte e quella per il ribaltamento delle bancate. Il documento, approvato ora dalla Giunta, indica procedure condivise con Confindustria Toscana Nord e con Confindustria Massa Carrara relative alle attività di riquadratura e sezionamento dei blocchi di marmo. Le linee di indirizzo si soffermano sui macchinari utilizzabili, sul sezionamento e la riquadratura di blocchi in marmo con macchine a filo diamantato o con tagliatrici a lama dentata. Passano inoltre in rassegna tutte le fasi della lavorazione e la cronologia, dando indicazioni scrupolose sul comportamento da tenere e le precauzioni da prendere sia da parte del sorvegliante che da parte di tutti gli addetti alle operazioni di sezionamento e riquadratura e su tutte le protezioni che devono essere predisposte durante i lavori, affinché nel lavoro in cava nulla sia lasciato al caso.